buongiorno a tutti bentornati a sedute comode oggi affrontiamo un argomento sempre riguardante e l'accoglienza delle famiglie con i bambini anche in alberghi non bambino centrici cioè non solo per famiglie con i bambini quindi alberghi generalisti anche se avete oltre alle famiglie anche delle coppie sapete meglio di me che vi vengono fatte delle richieste speciali nella ristorazione dei bambini sia per quelli molto piccoli che per quelli un po più grandi quindi voi di solito so che siete molto disponibili ad andare incontro alle richieste particolari delle famiglie chi più chi meno allora vediamo un po come destreggiarci i family hotel quelli insomma molto centrati sulle famiglie hanno il baby menu anzi in realtà ne hanno due uno per bambini nel momento dello svezzamento quindi diciamo fino all'anno l'anno è qualcosa e l'altro invece il baby menu che poi va avanti un paio d'anni insomma della vita del bambino ci sono poi anche i bambini che mangiano tranquillamente dal menù degli adulti insomma poi in ogni famiglia ci si gestisce diversamente comunque il baby menu diciamo da svezzamento deve prevedere tutte quelle quei brodi di base no e quindi e poi le pastine leofilizzate insomma tutte queste queste basi che conoscete meglio di me poi ci sono alberghi che si appoggiano su ditte specializzate magari biologiche è meglio e altre invece che fanno molto in casa quindi tipo non so la purea di frutta eccetera ci sono insomma alberghi che realizzano anche le cose abbastanza a mano e in generale senza voler andare troppo per il sottile perché altrimenti sareste un family hotel family hotel il consiglio è questo tenetevi sempre a portata e un brodo vegetale un sugo di pomodoro e un ragù in questo modo dovreste più o meno far contenta la maggioranza dei dei bambini insomma con il brodo vegetale sappiamo che si chiederà la pastina o qualche altra cosa e i bambini un po più grandi spesso insomma li si fa anche contenti con con la pasta in bianco famosissima pasta in bianco che va sempre alla grande e pasta al pomodoro pasta al ragù insomma poi ci sono bambini che mangiano solo quello i bambini che invece assaggiano tante cose e quanto offrire di specifico per i bambini sta molto a voi no dipende da 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 quanto vi piace accoglierli e da quanto vi piace stargli dietro perché tanto lo sapete e questo non gli piace manda indietro porta un'altra cosa insomma ci vuole una certa una certa pazienza e gli alberghi molto centrati sui bambini stanno anche molto attenti alla presentazione del cibo quindi ci sono tutti i scamotage per creare il piatto in modo che il cibo si è disposto in un certo modo tale da creare un disegno una forma in modo da invogliare i bambini insomma ci ci sono tanti livelli ecco tanti livelli dipende da voi come come vi piace di più gestirvi certo ci sono anche alberghi che nello stesso momento mi ricordo un amico albergatore mi diceva guardo 12 brodi in contemporanea sul brodo sono tutti diversi uno con la patata uno senza patata uno col sedano uno senza sedano uno col sale uno senza sal quindi insomma il mondo è bello perché vario e in questa insomma nell'hotellerie a maggior ragione quindi detto ciò baby menu potete averlo non averlo però sospitate famiglie sicuramente dichiarerete che siete disponibili ad andare incontro alle alle esigenze dei bambini insomma delle famiglie con i bambini è stato chiesto recentemente da un albergo non family quindi un albergo generalista e un consiglio su come organizzare la merenda per i bambini loro non l'avevano mai mai offerta prima però hanno notato che le famiglie se l'aspettano in qualche modo e di fatto è vero le famiglie se l'aspettano allora la merenda normalmente si fa alle 4 verso le 4 perché le 4 perché i bambini dopo pranzo vanno un po dormire poi quando si svegliano hanno fame e poi dopo insomma si proseguiranno quei giochi vari quindi come si organizza si organizza come un buffet e quindi una volta e si mettevano tutte le pietanze sul buffet ognuno andava e si serviva adesso il buffet deve essere tutto coperto protetto e ci deve essere l'operatore quindi anche la merenda per i bambini va gestita secondo questi questi criteri appunto cosa ci ci mettiamo allora la famosa baguette lunghissima con la nutella piace sempre tantissimo ai bambini se poi ci sono gli smarties sopra meglio ancora e mediamente piacciono i biscotti le torte e i succhi di frutta insomma la base la la conoscete insomma quale sia e se volete diciamo dare qualcosa di più alzare un pochettino il livello introducete la frutta tagliata naturalmente la frutta che tagliamo e che esponiamo sarà una frutta che non si ossida a contatto con l'aria e quindi che non cambia colore e quindi no mele no pere ma sicuramente andrà bene la frutta andranno bene le fragole l'ananas e insomma frutta che che non cambia colore tipo il kiwi per esempio la banana no per niente perché diventa subito marrone le fragole con la panna sono molto molto gradite ai bambini la panna in generale anche come guarnizione se volete alzare il livello ancora potete sostituire i succhi di frutta con dei centrifugati fatti in casa e potete inserire gli yogurt magari biologici potete variegare voi lo yogurt con degli sciroppi fatti in casa e inserire i cereali insomma se andate un po più sul buono sì ma anche un po salutistico state di fatto alzando il livello della vostra ristorazione tenete presente che i genitori vi osservano sempre tutto quello tutti i servizi dedicati ai bambini sono e passano diciamo all'occhio scannerizzatore del del genitore che vi valuterà anche per questo e non solo ma anche per questo consiglio è comunque in ogni caso di evitare come la peste scusate le patatine i pop corn della busta e i succhi di frutta da discount perché tutti li conoscono i succhi di frutta da discount quindi se mettete delle marche da primo prezzo sul buffet lo sanno tutti che quello è il primo prezzo evitiamo le bibite grassate quindi la coca cola fanta tutte queste cose qui e so che ai bambini piacciono le cercano e anche le patatine gli piacciono tanto però tenete presente che se avete un'etica insomma nel lavoro e se soprattutto puntate ad alzare il livello del vostro servizio e insomma il consiglio mio è di evitare questo tipo di di proposte sul buffet della della merenda e comunque nella merenda dei bambini anche perché sempre meno i genitori gradiscono che i loro figli mangino certi tipi di alimenti per fortuna la cultura alimentare si sta sta dilagando ecco cosa usiamo come piatti e bicchieri allora la plastica purtroppo svilisce sempre il livello del servizio e almeno il percepito dovremmo cercare in questo momento di usare dei materiali compostabili sarà sarà questa scelta molto apprezzata dai genitori che la noteranno e ho visto tante volte ed è molto avvilente come immagine e vedere alla fine della merenda dei bambini arrivare un animatore con sacco nero quello grande e praticamente rovesciare tutto il contenuto del tavolo a partire dalle tovaglie di carta che lo ricoprono o di tnt rovesciare tutto tutto indiscriminatamente dentro lo stesso sacco nero i genitori vi guardano quando fate questo e magari non dicono neanche niente qual per qualcuno non sarà un problema e a qualcun altro dispiacerà perché noterà che state avendo un atteggiamento non rispettoso dell'ambiente e quindi cerchiamo di dividere insomma di fare la raccolta differenziata anche davanti all'ospite in modo che lo veda e di usare materiali compostabili la pratica diffusa durante le feste per i bambini di scrivere il nome sui bicchieri va bene fatelo perché è utile sia per evitare che ad ogni bevuta un bambino prenda un bicchiere nuovo e sia per evitare che i bicchieri si scambino adesso bisogna stare sempre più attenti al lato igienico e quindi se ogni bambino ha il suo bicchiere col suo nome oppure se in età prescolare molto piccolo si fa un disegno un fiore una stella una pallina oppure lo si identifica con un colore insomma aiutare il bambino a orientarsi sulle sue cose in autonomia anche se non sa leggere questo è molto importante con con questa con questo consiglio abbiamo terminato per oggi l'argomento ristorazione per i bambini anche in un hotel generalista e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di sedute comode ciao 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 ciao